Numerosissime criticità che abbiamo fatto rilevare e altre che cercheremo di fare rilevare La sentenza? Intanto non è sentenza, è una ordinanza, ma massimo domani è l'ultimo giorno, utile per poter decidere Quindi entro domani? Quindi entro domani ci sarà una decisione Ma è che si aspetta? No, assolutamente no, io mi auguro ma non mi aspetto